Buongiorno e ciao ragazzi da Eglio. Mi hanno chiesto un tagliere e oggi vi mostro in pochi e semplici passaggi come creare un tagliere. Ecco qui abbiamo una tavola di legno di faggio 370 mm per 240 mm per uno spessore di 30 mm. Procediamo con il lavoro. Uno dei primi passaggi che io faccio è eliminare l'angolo. Per far sì che poi dopo sia bello arrotondato si possono usare vari metodi. Il classico scotch, un tappo di plastica oppure in questo caso io adotto questo sistema. Chiaramente questo va fatto in tutti i quattro gli angoli. Ricordo inoltre che questo tipo di taglio si può effettuare sia con una sega a nastro come ho fatto io oppure con il classico seghetto alternativo. Ricordo inoltre che dopo averlo tagliato chiaramente va carteggiato e arrotondato nel modo più dolce possibile. Io personalmente uso questa levigatrice orbitale. Chiaramente parto sempre da una grana grossa per poi andare a quella fine. Come avrete ben notato l'angolo è stato assolutamente arrotondato nei migliori dei modi. però non sarà finito perché poi ci sarà un altro passaggio. Un altro passaggio che viene effettuato al tagliere è arrotondare gli angoli sia sopra che sotto. Questo per rendersi che il tagliere esteticamente sia più bello e anche più pratico. E dopo vi mostro il perché pratico. Vi garantisco che un tagliere di queste misure e di questo peso diventa veramente poco pratico ad alzarlo perché non c'è nessun appiglio. Con questo rifilatore faremo tutto l'angolo del tagliere sopra e sotto e diventerà molto più maneggevole il tagliere. Ragazzi come avete ben visto con il rifilatore abbiamo arrotondato il legno e ho fatto con un piccolo bordino. Chiaramente adesso va ricarteggiato con una carta leggermente un po' più grossa per poi dopo andare a quella quella più fine. Ragazzi il mio video finisce qua. Il tagliere è fatto, finito, ben arrotondato quindi si riesce a prendere quando è appoggiato su un piano di lavoro. Chi mi ha chiesto il tagliere non vuole nessun decoro perché in certi casi con il laser faccio magari dei piccoli decori, però in questo caso non mi hanno chiesto niente, lo vogliono il più naturale possibile. Quindi il mio video oggi finisce qui. Il tagliere sinceramente mi è piaciuto. Li do un'altra passata con una carta finissima giusto per renderlo ancora più liscio. Ragazzi se a qualcuno è stato utile perfetto. Ricordo che questo legno è un faggio e quindi si può utilizzare benissimo per tagliare i nostri salumi, i nostri formaggi. Chiaramente non è un prodotto che si può mai dire. Ciao ragazzi da Elio!